ciao a tutti eccoci qua con un nuovo video sempre della mc dei suoi stabilimenti vediamo dato che ho messo tutto 200.000 e ci sono ancora le scorte quindi mi conviene vendere perché qui vedo che è tutto sperando che va bene questa accedi vendi merce 3.15 ok cos'era questa cosa è quella delle banconote no mi dà l'elicottero due elicotteri bene interessante sempre mezz'ora di tempo andare all'aeroporto lo santos airport international sarebbe los angeles in realtà tutto questo qui è los angeles fatto pezzo per pezzo ma veramente quando lo dissero quando è uscito il gta dissero subito non si sa come ha fatto la rockstar a fare los angeles completo questo è proprio los angeles però del 2013 poi adesso è cambiato quindi bisogna vedere bisogna vedere adesso tre elicotteri ho orca miseria è dura allora questa è dura beccare i soldi però sono buzzer bene dai partiamo col primo ce l'ha i missili io non li vedo non ha missili quindi può fare solo consegne nessun missile non ce n'è cinque consegne sono quindici in tutto entro mezz'ora bestiale bestiale speriamo che ce l'ho anche per il ritorno qui ne vedo quattro però quattro pallini come mai a meno che un ah uno è dietro a quei due sulla sinistra imboscato ok sono cinque meno male ero preoccupato un attimo che poteva esserci un imboscato cinque comunque blaine inizia dietro questa montagna inizia la parte non è più lo santos ma è blaine country ok la prima è proprio qui sono già quasi arrivato non ho male la prima volta che uso un buzzer da fare i consegni è quella qui non c'è né radar né niente ok fatta la prima subito là sotto un altro raggio rosso siamo a due dietro questa montagna ok ok dai vai vai e il buzzer da prima che prende cioè è veloce ma prima che prende velocità massima ce ne vuole eh ce ne vuole un po' eh Grazie a tutti. 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 Servizi. Grazie a tutti. Non sono stati cattivi. Servizi. Servizi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. quando vedo i video. che devo pubblicare. no? No, non fuma, meno male, vai. Vai, lassù. Dove c'è la... Lassù. 12 minuti. Non è neanche qui, guarda, guarda. Eccoli. E ho sbagliato io la manovra. Non c'entra la rockstar, non bisogna fare, fare errori assolutamente. Come questa gogia qui. Dov'è sulla montagna, magari? Gumi, non ne vedo. Giù, non ne vedo, quindi però prendiamo a quota. Allora. 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 E' sopra questi qui. Cazzo, ho fatto la posta. No, no, non è. Ecco il fuma rosso. Dov'è là? Su quella montagna là sarà. Ah no, qua sotto qua, vedete il fuma rosso. Eccolo lì. Devo stare attento solo ai tralicci. Sono qua sotto. Bastra. Ancora due. Vai, 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 vai. Grazie a tutti. Allora il fumo non si vede, è fumogeno, eccola, penso a vederlo, l'ultima, è il piloto io a questo modo e fai riprendere velocità, è quello, vorrebbe essere qua sotto, eccola, lo vedo, l'ultima è lì. 315 mi ha dato, ok, questo video finisce qui, al prossimo video vediamo se c'è un'altra, ancora un'altra consegna e poi devo rivedere un video, l'ho aggiornato perché aggiornare un magazzino ci vuole più di un milione. Ok, ciao a tutti, Joker per il momento chiude questo video, al prossimo video, ciao a tutti.